Ragazzi oggi vi ho portato in un posto che vi piacerà Si chiama Oddy Store e è un negozio che vende dolciumi, cibi, cose strane un po' da tutto il mondo E vi voglio far scegliere una cosa a vostra scelta, una qualunque Guarda, io non voglio sapere niente se è una cosa sana, non sana, sicuramente non sarà sana Piena di zuccheri, potete scegliere quello che vi pare Però una cosa, ok? Quello che scegliete ve lo compro Ok? Andiamo Guardate un po', può essere una cosa dolce o salata, potete scegliere quello che volete Ecco, lì si ho trovato la sezione ramen Qui ci sono versioni di dolci che nei supermercati normali non trovate Spray caramella Che carino, io mangio questo Wow, questa è piccante È la Hot Chili Challenge Guarda Daniel, le patatine che hanno anche la salsa E guarda, le cannucce quelle lì che ci bevete Scegli dal latte però vari gusti La gomma da masticare fatta a tubetto tipo dentifrice Questa l'avevo provata da piccola Ma l'occhio è molto buono ma qualcuno dice È là fuori, bellissimo Come si fa a scegliere solo una cosa, ragazzi? Chi è fuori l'occhio? Chi è fuori? Chi è fuori? Bellissimo! Come si fa a scegliere solo una cosa, ragazzi? Ma... Ma... cioccolato che tu ci mescoli le cose e poi te lo mangi. Oh, reparto infusi e tisane. Ok, vediamo un po' questo bottino. Daniel si è buttato sul salato. Cosa hai preso? Le Doritos alla panna acida e cipolla. Daniel l'abbiamo portato in un negozio pieno di dolci e ho scelto l'unica cosa salata. E tu Alissa? Io ho scelto un dolce con la parte dolce e quella frizzante. Che si spruzzano direttamente in bocca? Sì, e la Big Bubble prata in tubetto. Sì, ecco, così Alissa fa finta di lavarsi i denti e in realtà mangia la gomma. E poi abbiamo preso due cosine extra. Una per papà, che è questo cioccolato ripieno di pistacchio, ma poi questa cosa per fare una challenge con le jelly beans dai sapori strani. Perciò aspettatevi questo video. Tanto Alissa tenta di aprire i suoi dolci, li deve già provare. Vediamo un po'. Spingi, spingi. Buona. Anche tu fai l'assaggio? Sì, però dov'è. Vai. Non ce la farà mai. Adesso gli cadono tutte per terra. Tutte su piazza di Spagna. Vai. No, lo sapevo. No. Ok, vediamo la prossima. Buona? Soddisfatti? Sì. Ok. E allora possiamo continuare il nostro giro per Roma. Ciao. Sì. Sì. Sì.